ciao a tutti amici del toro benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami toro tendenze energetiche affettive per la seconda parte di marzo 2023 wow abbiamo il sole periodo di espansione probabilmente amici del toro quando c'è la carta del sole si parla sempre di sentimenti puri di sentimenti genuini di relazioni pulite anche platoniche alle volte perché una carta che fa riferimento alle amicizie principalmente andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generali sono fatto per un collettivo quindi facile che non risuoni tutto poi prendete semplicemente quello che vi serve lasciate andare il resto all'universo se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di questi tre oroscopi trovate il link al corso gratuito di tarocchi trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi allora ragazzi iniziamo con una regina di bastoni al contrario un asso di coppe il 2 di bastoni la sacerdotessa il re di bastoni un sette di pentacoli vediamo come chiudiamo e il nome di pentacoli al contrario interessante allora devo dire che questa regina di bastoni potrebbe rappresentare una persona diciamo intorno a voi ma non esattamente legata a voi nel senso che comunque vedendo questo asso di coppe al contrario come la sensazione che qualche cosa faccia fatica iniziare o abbia come un inizio un po troppo prosciugante diciamo così la regina di bastoni quando è il contrario è una persona che tende risucchiare un po l'energia e di fatti anche l'asso di coppe al contrario vediamo poi che c'è anche un 2 di bastoni quindi un po come se vi venisse una sorta di dubbio nei confronti di questa persona nei confronti di questa relazione nel caso abbiate già una relazione la sacerdotessa è una carta che fa riferimento all'intuito è una carta che parla di come vi posso dire di percepire di essere in connessione in contatto col proprio se superiore ed è anche una carta che fa riferimento ai sogni sia quelli ad occhi aperti che quelli ad occhi chiusi o anche un po la sensazione che qualcuno faccia fatica a lasciarsi fluire nelle cose di fatti abbiamo anche questo asso di coppa al contrario è come se fosse una una fatica a far sgorgare i sentimenti mi viene quasi da dire abbiamo poi un re di bastoni tenete presente che qui abbiamo la regina di bastoni quindi per molte persone si tratta di una coppia per destino se la regina di bastoni siete voi il re di bastoni potrebbe entrare verso la fine di marzo però in un certo senso è come se qualcuno si prendesse i propri tempi ok il set di pentacoli una carta che parla di attesa è una carta che parla di qualcuno che ha già seminato in un certo senso e adesso si sta aspettando che le cose evolvano e poi abbiamo questo nome di pentacoli al contrario e o come la sensazione che qualcuno preferisca visto che c'è anche il sole iniziare un po una conoscenza diciamo magari come amici per una questione di basso amor proprio mi verrebbe da dire con il nome di pentacoli al contrario come se qualcuno avesse paura e difatti è per quello che qui c'è questo due di bastoni come se qualcuno avesse paura di infilarsi in qualche cosa di più concreto di più profondo magari con questa persona per o una mancanza di amor proprio o per paura di creare qualche dipendenza perché quando c'è il 9 di pentacoli al contrario si parla anche di dipendenze possono essere affettive possono essere anche monetarie sapete ci sono quelle persone che preferiscono rimanere per esempio in due appartamenti separati piuttosto che unirsi perché è come un preservare i propri averi perché come se in due ci fossero più spese allora uno pensa che io da solo riesco a gestirmi in due invece bisogna comunque venirsi incontro e come si la sento un po una sorta di protezione in realtà quella che andrete ad assumere e vi dirò che essendoci la carta del sole si parla di chiarezza mentale anche a vedere toro andiamo a spiegare le carte allora abbiamo la sacerdotessa nuovamente l'eremita vediamo se prenderla e la regina di bastoni interessante è come se dovesse fare un punto della situazione per quello che riguarda la femminilità che si vede all'esterno e la femminilità che si vede all'interno la sacerdotessa quella che diciamo la femminilità che fa riferimento alla ricettività all'accoglienza mentre la regina di bastoni e più una femminilità intesa come persona femminile come sapete una persona magari degli elementi molto fini molto delicata devo vedere questo osso di coppe e di fatti qui avete la sacerdotessa due volte ragazzi polarità femminile e qui avete il sole polarità maschile c'è qualcosa nel vostro lato emotivo che non vi permette di fluire nella situazione per vedere questo asso di coppia vediamo se riesco a dirvi che cos'è per qualcuno potrebbero essere le paure per qualcuno il fatto che ci si debba staccare da certe certezze o per esempio il fatto che quando si va a fondo nella relazione con una persona si tende ad aprirsi no quindi in un certo senso si tendono a buttare giù determinate barriere devo vedere il 2 di bastoni abbiamo un 3 di bastoni e un imperatore due 3 di bastoni e come se aveste voglia di qualcosa di più concreto sì di più profondo di più stabile ma ci sono le paure inerente alla luna o le proiezioni qualche luna e sole di nuovo polarità maschile polarità femminile tende presente che la luna la carta che rappresenta la polarità femminile in ombra quindi tutto quello che sono le emozioni represse letteralmente quelle che non sono elaborate quelle che i traumi diciamo così che poi creano le paure creano le strutture e quindi qui c'è da buttare giù un po da staccarsi da queste paure da queste cose inerenti la relazione e è vero che magari voi avete più bisogno di una diciamo figura o una sensazione più stabile come quella dell'imperatore ma il punto è che qui dovete scavare dentro di voi devo vedere la sacerdotessa abbiamo un fante di bastoni e la morte al contrario c'è qualche cosa che dovete tagliare probabilmente all'interno di voi perché con la morte al contrario è come se non si chiudesse qualche tipo di ciclo e con il fante di bastoni questo ciclo potrebbe essere perché come la sensazione che molte persone confondano quello che avevo detto un po qui prima anzi mettiamoli così così si capisce meglio quello che il lato spirituale della femminilità è quello che il lato sensuale della femminilità sono due cose diverse ed è un po come se aveste bisogno di trovare di più il vostro lato spirituale anche all'interno della relazione se già siete in relazione con qualcuno se invece appunto questa regina di bastoni potrebbe essere una persona con la quale non c'è qualcosa di definito ok sento che è un po il vostro modo di porvi che dovrebbe cambiare perché tendete troppo a proteggervi tendete troppo a mettere dei muri andiamo a vedere il sole scusate il in re di bastoni cavaliere di coppe e il diavolo al contrario ullala questo re di bastoni ragazzi non credo proprio che farà dei passi dei movimenti in avanti nei vostri confronti perché comunque abbiamo il cavaliere di bastoni di di coppe scusate al contrario ma credo anche che sia perché è condizionato in qualche modo o dal vostro modo di porvi come vi dicevo o c'è qualcosa con questo diavolo che comunque non scorre fluido in quello che potrebbe essere l'interazione tra regina di bastoni andiamo a vedere il 7 di pentacoli e ripeto se siete single potrebbe essere una persona intorno a voi che più avanti diciamo verso la seconda parte del periodo non sento che venga proprio a darvi una cioè e come entra nell'orbita una persona qui cominciate magari a dialogare un pochettino di più andremo a vedere poi verso aprile che cosa succederà però o come la sensazione appunto che ci sia questa sorta di evoluzione ma è un passo alla volta davvero ok grazie wow wow tra i maggiori ho già visto allora il sete di pentacoli e perché qui c'è qualche questione a livello emotivo che ha ancora bisogno di essere purgato che il 5 di pentacoli una carta di perdita una carta di lutto e riguarda proprio quello che è la sfera delle emozioni con quest'ora di coppe qualcuno potrebbe ancora magari ricordare certi brutti certe brutte sensazioni di cui ci parla anche qui la luna che si sono vissute un po come aspetto tempi migliori poi per il 9 di pentacoli sono usciti nuovamente il sole lotto di bastoni la carta del mago nuovamente 7 di pentacoli la carta del mondo quindi è come se una notizia e può essere qui che rivediamo il sole potrebbe essere magari anche l'arrivo di una persona l'arrivo di un amico può anche essere l'arrivo di un amico o un'amica lontani proprio fisicamente sento più che sia l'arrivo di qualcuno che non realmente la vostra partenza però è come se ci fosse una bella notizia un arrivo una anche un risultato raggiunto perché vi ricordo che c'è il mondo è come se si raggiungesse una fase di compimento tale da poter iniziare l'espansione verso il compimento l'ho vista un po così comunque è vero che i tempi non sono ancora maturi ragazzi perché c'è un set di pentacoli due volte tra l'altro quindi è un energia di attesa andiamo a vedere con gli angeli del cuore vediamo eccoli qua sono già usciti wow anima gemella sì questa persona è proprio la tua anima gemella in effetti vediamo che abbiamo re di bastoni e regina di bastoni poi lasciati aiutare dagli amici chiedi e accetta il supporto degli altri qui abbiamo il sole in diverse posizioni si sento che avranno un buon ruolo in tutto questo periodo la sfera delle amicizie devo vedere ancora un con ok allora trovare te stesso è perdere te stesso che bella questa allora ragazzi e ve la metto qua vicino a questa sacerdotessa che era in centro lettura e che è un po il tema diciamo che bisogna sviluppare in questa quindicina di giorni in cui abbiamo detto che c'è il sole c'è questa chiarezza mentale c'è questa voglia di agire di fare ma quello che manca un po la connessione l'essere ricettivi la connessione col proprio essere interno essere interiore e normalmente ce l'avete remita si eccolo qua normalmente c'è un periodo della nostra vita dove diciamo così ci si perde ok ci si fanno determinate domande e viene anche un po associato al periodo delle remita che è anche una delle fasi del cinque fasi del risveglio spirituale ok quindi è un po la notte buia dell'anima e questa carta riassume un po il fatto che quando si è in questa fase di notte buia dell'anima dove ci si fanno delle domande ci si isola si cerca di capirsi dentro che cosa bisogna tagliare che cosa invece bisogna tenere ci si perde un po no perché ci si fa talmente tante domande che le risposte poi non arrivano sono più le domande non ci si dà il tempo di trovare le risposte però è solo lì è solo nel momento in cui uno si si questiona come si dice si si fa venire i dubbi su qualsiasi tipo di cosa inerente il come ha costruito la vita è solo lì che c'è poi una profonda conoscenza di se stessi e ci si può trovare nella propria essenza nel proprio il sole nel proprio bambino interiore wow ma che bella lettura toro fatemi sapere nei commenti se vi risuona se vi è piaciuta potete comunque mettere like potete iscrivervi condividere ogni tipo di supporto ragazzi per me è davvero importante quindi quindi ringrazio tutte le persone che lo fanno e vi mando un grande un grande abbraccio vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao